Musica Lo scorso anno il comune di Lizzanello ha coniugato passione per il territorio, cultura e memoria, promuovendo un grande personaggio dal sapere enciclopedico nel centenario della sua morte. In coda a quel cartellone di eventi nei giorni scorsi è tornato ad accendere un faro su Cosimo De Giorgi per rievocare non tanto i suoi studi poliedrici e i luoghi indissolubilmente legati ai suoi studi, ma soprattutto per scivolare nell'intimità dei pensieri più reconditi e degli affetti più cari che hanno caratterizzato la sua vita. Noi abbiamo da subito sposato questo progetto, da quando ci è stato proposto di essere tra i partner di questa iniziativa non abbiamo esitato neanche un minuto perché ovviamente Cosimo De Giorgi rappresenta per il nostro sedento uno dei figli più importanti della nostra terra, quindi da subito abbiamo sposato questo progetto e l'abbiamo portato avanti. Finalmente si dà anche importanza non soltanto all'aspetto diciamo scientifico di Cosimo De Giorgi ma anche al lato umano, il lato umano che è importantissimo perché dietro a un grande scienziato rigoroso c'è anche un grande padre per esempio, quindi che è importante perché ci sia anche il lato umano del personaggio Cosimo De Giorgi che per il salento, ripeto ancora una volta, è importantissimo ed è stato davvero un luminare che ha illuminato davvero il nostro salento. Con il convegno nell'intimo respiro di Cosimo De Giorgi cala il sipario sul cartellone di eventi dedicati alla celebrazione del centenario di uno dei pilastri della cultura umanistica e scientifica del panorama nazionale a cavallo tra fine ottocento e inizi del novecento. L'evento, rientrante nel progetto promosso dal comune di Lizzanello e finanziato dal Polo Arte Cultura Turismo della Regione Puglia in collaborazione con la provincia di Lecce ha richiamato insigni studiosi della Società Storica di Terra d'Otranto che per l'occasione hanno curato la ristampa anastatica del libro Quasi Introvabile del Genio libro dedicato ai suoi cegni autobiografici fondamentali per penetrare nell'intimità dei pensieri e degli affetti di un uomo che nel suo studiolo dispensò consigli alle figlie, scrisse libri e approfondì ricerche non per formare ma per trasformare. Sì valorizziamo De Giorgi, continuiamo a valorizzarlo anche se il personaggio è talmente grande che non ha bisogno di essere valorizzato. Il convegno di alto spessore culturale coordinato dalla giornalista scientifica Lori Larva ha annoverato le relazioni del professor Franco Mastrolia, dell'architetto Mario Cazzato del professor Gilberto Spagnolo della Società Storica di Terra d'Otranto e del direttore dell'archivio di Stato di Lecce Donato Pasculli. E la partecipazione qui ci sembrava insomma doverosa per una delle personalità di più alto livello, di più alto spessore di cui in archivio conserviamo tantissima documentazione, tantissime carte. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Costantino Giovannico mira così a far conoscere attraverso documenti singolari e studi inediti l'uomo e il genio poliedrico. È un libro importante, è introvabile e quindi è un'opera che sicuramente farà, diciamo come devo dire, porterà all'attenzione la sua autobiografia. Giunge così al capolinea l'avventura celebrativa promossa dall'amministrazione comunale di Lizzanello per commemorare il centenario della morte di Cosimo De Giorgi. Con i tanti eventi, mostre e convegni andati in scena lo scorso anno, si è cercato di dare lustro e vanto al figlio più illustre della piccola Lecce. Interessanti gli interventi dei relatori e dei rappresentanti delle istituzioni. Nel corso della serata il sindaco Giovannico ha lanciato l'appello per l'intitolazione di un dipartimento o di una sede universitaria al grande figlio di Lizzanello, per valorizzare il prezioso contributo che questo studioso poliedrico e geniale ha dato alla cultura della terra d'Otranto, così come nelle intenzioni del consigliere regionale Paolo Pagliaro, fattosi promotore di una proposta di legge. Questa proposta di legge dovrà passare dal vaglio della Commissione per andare in consiglio, perché crediamo che sia doveroso per noi rendere omaggio a questo grande, immenso uomo gigante della cultura del Salento. Quindi la nostra idea è quella di fare in modo che si possa studiare Cosimo De Giorgi in tutte le sue sfaccettature, sia nelle scuole medie, inferiori che superiori, organizzando anche dei convegni, delle iniziative come questa, quindi complimenti al Comune di Lizzanello che sta dando senso vero a questa figura immensa della cultura salentina. D'altronde lui è stato con i suoi bozzetti di viaggio un precursore, facendo conoscere al mondo tutte le peculiarità del nostro Salento, inteso come provincia di Lecce, Brise e Taranto, la gloriosa provincia di Lecce, Terra d'Otranto, e che ha voluto anche evidenziarne le differenze, sempre in questa unicità che noi oggi rimarchiamo in tutte le iniziative che portiamo avanti. L'evento, che ha visto la partecipazione di alcuni rievocatori storici del gruppo storico Leggio, Seconda Augusta e Danze Antiche Augusta, reduci dai trionfi di Roma in occasione del Natale dell'Urbe, è stato impreziosito dal commento musicale a cura del gruppo vocale Viri Cantores de Finibus Terre, diretto dal maestro Giuseppe Lattante, che ha eseguito diversi brani, tra cui il celebre Inno alla Pace, composto dal maestro Lattante per Fidapa Italia, che ne ha concesso l'esecuzione affidata al coro e ai soprani Micaela Stabile e Doriana De Giorgi. Serata dedicata dunque alla vita intima di Cosimo De Giorgi, al dialogo e alla convivenza pacifica tra i popoli, con l'auspicio che sentimenti di pace prevalgano nel cuore degli uomini, in un momento così delicato per il mondo, minacciato da deflagranti fronti di guerra. Grazie a tutti i nostri spettatori,